Si sta creando un po' un circolo virtuoso per cui tutti collaborano. Qui ci sono due questioni importanti. La prima ovviamente è l'attenzione ai temi della sostenibilità, dell'efficientamento energetico del verde. La seconda però altrettanto importante è l'attenzione ai giovani, la formazione, il fatto di avere università che forniscono un bacino formativo e di offerta di lavoro importante. Per cui tutte le volte che c'è un'azienda che apre, che fa un evento del genere e che garantisce occupazione, io ci sono.